Ancora un furto al cimitero di Eboli. L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto nei giorni scorsi, quando è stata portata via una statuetta in bronzo collocata su una tomba. La polemica è scoppiata su Facebook, dove la foto pubblicata da un parente ha scatenato le condivisioni di tanti cittadini, che hanno segnalato anch'essi di aver subito furti. Nelle scorse settimane i ladri hanno sportato statue di notevole valore in una cappella ed altri suppellettili, sempre in bronzo, raffiguranti madonnine o frasi religiose su argento. Raid veri e propri, messi a segno probabilmente da gang senza scrupoli, che lucrano su questa tipologia di merce per poi fondere le statue in bronzo e rivenderle sul mercato nero. Dopo i numerosi casi segnalati, l'amministrazione potrebbe avviare le procedure per installare delle telecamere volte a potenziare la sicurezza e a rendere più difficile la vita ai malviventi.